Anche per lei arriva la rottura dunque con il passato? Assolutamente sì, abbiamo aderito al partito noi con Salvini, Lega dei Popoli, proprio perché stiamo accogliendo tutti i problemi che ci stanno ponendo i cittadini e prendiamo spunto dall'allora Lega Nord e facciamo ben distinto, noi non siamo la Lega Nord ma siamo un distaccamento della Lega Nord nelle nostre regioni per cui accogliamo tutte queste problematiche e ci poniamo nei confronti del cittadino per affrontarle e per dedicarci in maniera più importante e più pretestuosa nel nostro territorio. Quale sarà il suo contributo all'interno dell'assise civica? Il mio contributo rimane quello, sono entrato come consigliere d'opposizione, rimarrò un consigliere d'opposizione, ovviamente sarà la mia, come ho sempre fatto finora, un'opposizione costruttiva nel senso che ci saranno degli atti importanti da valutare, noi li valuteremo assolutamente, li voteremo in maniera adeguata, in maniera costruttiva se non ritengo che siano importanti o rilevanti per la cittadinanza, ovviamente il mio ruolo di opposizione non mi farà altro che votare in maniera contraria. E invece al futuro come guarda? Normalmente guardo bene, vediamo cosa succede nell'ambito del centrodestra perché chi ci conosce siamo sempre stati all'interno del centrodestra e aspettiamo indicazioni per quanto riguarda il futuro, però come ha detto l'onorevole Pagano è giusto cominciare pian pianino con i piedi di piombo, partendo giorno dopo giorno per cominciare a ricostruire finalmente quella casa che tutti ci chiedono, quella casa che un giorno avevamo e che speriamo si possa ricostruire nel bene comune della cittadinanza, del nostro territorio e della nostra regione. Pronto a nuove alleanze? Ci faccio riflettere, ci aggiorniamo non appena non ci saranno tutto questo torpori in giro.